Questo ragazzone si chiama Cacique, è un galgo di taglia piuttosto grande, molto tranquillo, quando siamo entrati nel paddock si è avvicinato con calma, però in modo molto fituoso, non è esuberante ma è presente, in esterno è rilassato, si referenzia molto all'umano perché guarda, annusa, tranquillo. I gatti li ha visti, si è avvicinato per annusarli però in modo pacifico, quindi pensiamo che possa vivere, sicuramente possa imparare a vivere, è un cane molto equilibrato, un gran bel cane.